Sono sicuro che se hai cliccato questo video hai già sentito parlare di Bloody Mary. Tanti la conoscono come leggenda metropolitana, come gioco paranormale, e devo confessare che non ho mai avuto il coraggio di farlo. Cioè, non succede niente, ma se succede... In ogni caso, sia che la conosci che non, oggi ti racconterò chi era Bloody Mary e perché ancora oggi le persone ne parlano, la cercano, la temono. Ciao, belli de zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Consiglio quindi di mettervi comodi e prepararvi un bel Bloody Mary, che è anche un cocktail. Perché adesso iniziamo ad indagare sul file di oggi. Devo ammettere che il video di oggi sarà leggermente diverso dal solito. Innanzitutto parleremo di paranormale, ma anche della storia di Mary, che è vissuta tanto tempo fa. Come vi dicevo all'inizio, tutti sanno più o meno chi sia Bloody Mary, ma non tutti conoscono la sua triste vita. E soprattutto non tutti sanno perché appare negli specchi di tutto il mondo. Ma andiamo con ordine. Prima di cominciare, come promesso, vi faccio anche vedere questa bellissima cosa che mi è arrivata da Pampling. Sei stressato? Sì? No? No! Come al solito trovate questa e tutte le magliette che indosso nei video su Pampling. Trovate il link nella descrizione e inserendo il codice Andrew avrete anche delle calze scelte in omaggio. Adesso però cominciamo davvero. Innanzitutto vorrei che adesso, in questo esatto momento, mettiate in pausa il video e scriviate nei commenti se sapete chi è Bloody Mary. E ditemi anche se tipo l'avete conosciuta da piccoli oppure no. Se non avete voglia, pazienza. Stop al video? Ok. Vi ho fatto questa domanda perché quando ero piccolo, tipo all'elementari, un giorno qualcuno è venuto da me e mi ha detto Sai che se dici Bloody Mary tre volte davanti allo specchio, apparirà il fantasma di Mary alle tue spalle? Ecco, non so se lo sapete ma io da piccolo ero un cagasotto, per cui ancora oggi non ho mai avuto il coraggio di provare sto gioco. Comunque ho chiesto anche a voi perché credo sia una di quelle cose che viviamo tutti nella nostra infanzia. Cioè, tutti sanno chi è Bloody Mary, ma perché? Come quando vedi un video comico riguardo l'infanzia del creator di turno e pensi Cavolo, ma è successo anche a me? E quindi pensi che abbiamo tutti avuto la stessa infanzia. Ecco, secondo me Bloody Mary è una di queste cose, ma ho chiesto proprio per capire se fosse solo una mia impressione oppure è davvero così. Scusate, sto blatterando. Come avrete capito, si tratta di un rituale, una leggenda metropolitana. E in realtà tutto questo gioco varia a seconda di chi lo racconta. Cioè, ci sono tantissime versioni diverse, ma in sostanza succede che ai pigiama party, ad Halloween o anche in giorni normalissimi, adolescenti e bambini fanno un gioco inquietante chiamato Bloody Mary. Bloody Mary. Le regole sono molto semplici. Bisogna andare in bagno al buio, o in una stanza buia in generale. Basta che ci sia uno specchio. È la prima volta che lo faccio. Bisogna avere una candela in mano, o comunque stare al lume di candela, con tutte le luci spente. Poi bisogna andare davanti allo specchio e dire Bloody Mary. Tre volte. C'è chi dice anche fino a 13 volte, ma noi rimaniamo a tre. A questo punto, molti giocatori dicono di aver visto un fantasma nello specchio, dietro le loro spalle. Si tratterebbe di una donna ricoperta di sangue e incazzata nera. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Non c'è niente. Alcune persone che hanno fatto il rituale raccontano che Bloody Mary è apparsa e ha urlato fortissimo contro di loro. Dicono anche che li ha strangolati, oppure graffiati. E qualcuno addirittura dice che gli ha strappato gli occhi a mani nude. Viene spesso raccontato che la donna nello specchio tiene in braccio un bambino, che sembra essere morto. E i giocatori potrebbero anche vedere che il loro volto riflesso inizia a fondersi e diventare una massa informe. Ma quindi da dove arriva questo gioco paranormale? Quali sono le sue radici? Pare che il tutto derivi da una vecchia tradizione praticata dai giovani del XIX secolo. E qui diventa interessante. Questi ragazzi facevano un rituale simile ma diverso. Praticamente dovevi salire le scale di casa camminando al contrario e nel buio totale. Tra l'altro è abbastanza pericoloso quindi non lo fate, grazie. Comunque sul muro delle scale dovevi mettere uno specchio. E passando, mentre salivi al contrario, avresti visto riflessa una di queste due cose. Il volto della persona che eri destinato a sposare. Oppure un teschio. Se appariva il teschio significava che saresti morto prima del matrimonio. Sembra che il rituale di Bloody Mary sia nato proprio da qui. Ma molte persone si chiedono. Quindi chi è Bloody Mary? Ancora una volta ci sono tantissime versioni. Quindi insomma dipende da chi ti racconta la storia. Per alcune persone si tratterebbe di una donna di nome Mary Worth. E in questo caso anche durante il rituale ci sono delle piccole differenze. Infatti oltre a dire Bloody Mary tre volte bisogna anche dire Io credo in Mary Worth. A quel punto appare Mary. E ti sfigura. Quindi non so che senso abbia fare sto rituale se poi arriva una tizia che ti sfigura. Ma chi era questa benedetta Mary Worth? Innanzitutto voglio ringraziare il canale ReplayScoven che ha fatto un lavoro bellissimo per ricostruire tutta la storia di Mary Worth. Grazie a lei ho scoperto tutti i dettagli di questa prima versione della storia. Dettagli che devo dire la verità sul web scarseggiano. Quindi grazie ReplayScoven. E tra l'altro trovo assurdo che abbia meno di 1000 iscritti. Quindi dai rimediamo e aiutiamolo un po' perché sinceramente mi farebbe tanto piacere vedere crescere il suo canale. Ma torniamo a noi e alla storia di Mary. Secondo la leggenda siamo più o meno intorno al 1860. Mary Worth è una donna che vive vicino a Chicago. A Dilley's Road precisamente. Per vivere Mary fa una cosa decisamente brutta. Si occupa infatti del traffico degli schiavi. Pare che imprigionasse queste persone per poi venderle nel sud del paese. Però si vocifera che Mary non li vendesse tutti. Anzi le piaceva tenerne alcuni tutti per sé. E possiamo solo immaginare per quale motivo. Tra le altre cose comunque già all'epoca era risaputo che Mary praticasse la magia nera. Cioè pare che proprio quasi tutti i cittadini sapessero di queste sue oscure passioni. Nonostante questo sembra che a nessuno interessasse davvero. Cioè non volevano immischiarsi in cose più grandi di loro. Per cui sapevano tutto ma nessuno parlava. Ed è grave perché tutti sanno che Mary usa i suoi servi come vittime sacrificali per i suoi rituali. Come potete immaginare quindi ha un comportamento molto violento nei loro confronti. E arriva anche a torturarli. E ucciderli. Tutto per portare a termine i suoi inquietanti riti. Ad un certo punto però gli stessi cittadini si sono stufati. Hanno detto basta finalmente. E hanno quindi deciso di fargliela pagare. E qui abbiamo due versioni diverse. Secondo la prima Mary è stata linciata dai cittadini. Che l'hanno poi seppellita direttamente sotto casa sua. Secondo l'altra versione invece la Wart è stata accusata di stregoneria. E quindi bruciata viva. Sempre secondo le voci nel luogo in cui è stata seppellita venne messa una sorta di lapide. Una grande pietra. Che sarebbe servita per imprigionare per sempre il suo spirito. Cento anni dopo inizia a circolare la leggenda del rituale. Proprio quella che conosciamo oggi. E inizia a girare per un motivo specifico. Pare che nella casa di Mary Wart in quel periodo vennero fatti dei lavori di ristrutturazione. E durante questi lavori la lapide venne rimossa. Liberando così lo spirito maligno della strega. Da quel momento proprio dentro la casa di Mary sono iniziata ad accadere cose strane. Gli oggetti si muovevano da soli. I piatti volavano in giro e c'era una puzza nauseante. Oltre a tutto questo la casa ha letteralmente preso fuoco per ben due volte. E non si conoscono le cause. In realtà non ho neanche capito se sta casa esiste veramente ma vabbè. Fatto sta che intorno al 1960 la leggenda di Bloody Mary ha iniziato a circolare. E a quanto pare tante persone allo specchio. Dicevano anche io credo in Mary Wart. Ma altre tante persone credono che Bloody Mary non sia affatto Mary Wart. Anzi credono in una versione molto più interessante e anche più triste. Bloody Mary non sarebbe altro che Maria Tudor. Conosciuta anche come Maria la Sanguinaria. E la sua storia ragazzi è assurda. Pronti? Innanzitutto si tratta di un antico membro della famiglia reale d'Inghilterra. Una donna che quando era in vita è stata al centro di varie polemiche. E si è anche macchiata di un massacro senza precedenti. Maria Tudor, regina d'Inghilterra, viene ricordata in inglese proprio con il nome Bloody Mary. Quindi c'è raga è lei. Nasce il 18 febbraio 1516 a Greenwich in Inghilterra. All'epoca è l'unica figlia del re, Enrico VIII, e Caterina d'Aragona. Due nomi che so che avete già sentito. Quando Mary compie 17 anni, suo padre decide di terminare il matrimonio con Caterina, sua madre. E il motivo è abbastanza ridicolo. Enrico VIII decide di finire la relazione perché Caterina non aveva fatto nascere un bambino maschio. Un bimbo che l'avrebbe succeduto al trono. Quindi scarica tutta la colpa su di lei e anche su di Mary. Le fa pesare tantissimo il fatto di essere nata donna, come se fosse una colpa. Enrico pensa che l'inabilità di Caterina di fare un figlio maschio fosse un segno del dispiacere di Dio. E ora sembra davvero assurdo ma il tempo era ragionevole. E questo fa riflettere. Comunque tutta questa vicenda fa sì che Mary inizi a sentirsi fuori luogo e a pensare di non essere mai abbastanza. E la popolazione stessa viene informata del fatto che Enrico fosse deluso da sua figlia. Per cui immaginate. E il popolo era d'accordo. Vergognati. Vergognati che hai la vagina. Quindi fu addirittura proibito a Mary di far visita alla sua stessa madre. Una cosa abbastanza triste. Intanto Enrico si era infatuato di un'altra donna. Probabilmente il vero motivo per cui aveva lasciato Caterina. Questa donna era Anna Bolena. E all'inizio a lei non fregava niente di Enrico. Anche perché era amica di Catherine. Caterina. Cioè in realtà raga tutti i nomi di queste persone sono inglesi. Non so perché quando se ne parla in italiano si traducono anche i nomi. Non ha senso. Quindi d'ora in poi chiameremo tutti con i loro nomi giusti. E che cazzo. Dicevo. Anna era amica di Catherine. Per cui non le fregava nulla di stare con Henry. Però come sapete le nozze reali non sono mai o quasi mai alimentate dall'amore. Ma dai soldi. Quindi era un vero e proprio contratto di matrimonio. Fatto esclusivamente per questioni economiche e politiche. Quindi i due alla fine si sposano lo stesso. E questo fu tipo una sorta di scandalo. Perché Anne era amica dell'ex moglie di Henry. Però in realtà fu uno scandalo che durò molto poco. Perché al popolo non interessava assolutamente niente di tutte ste robe. Quindi appunto si sposano e poco dopo. Anne rimane incinta. Oh. Una nuova speranza per Henry. Che tanto voleva un figlio maschio. Invece no. Nasce un'altra femmina. Godo. Chiamano quest'altra figlia. Elizabeth. E il re Henry era preoccupato che in qualche modo la sua prima figlia Mary avrebbe interferito con i suoi piani. Cioè che avrebbe fatto di tutto per evitare che Elizabeth diventasse regina al posto suo. E direi anche giustamente dato che il titolo spettava a Mary. Ma Henry non voleva che la sua prima figlia prendesse il titolo. Perché era nata da un matrimonio ormai finito. Elizabeth invece era figlia di Anne con cui era ancora sposato. Quindi insomma fece una cosa per assicurarsi che fosse Elizabeth a ricevere la corona. Una cosa abbastanza brutta. Convinse il Parlamento a dichiarare che Mary fosse una figlia illegittima. E ci riuscì. Quindi ufficialmente ormai a Mary non spettava più nulla. Ma le cose tristi per lei non finiscono qui. Anzi. Nel 1553 Caterina d'Aragona, la madre di Mary, perde la vita. E al tempo fu una morte davvero misteriosa che ha dato il via a varie speculazioni. Per esempio si pensava che il re Henry e Anne, Anna Bolena, fossero felicissimi per la sua morte. Perché anche lei avrebbe potuto interferire con il titolo reale in qualche modo. Quindi a loro andava decisamente bene che fosse morta. Magari l'hanno proprio uccisa loro? Queste sono le domande che si faceva il popolo. Ma che si è fatta anche Mary. Da questo momento comunque Anna Bolena ha detto tipo Ok, devo fare in modo che Mary non mi porti rancore. Devo diventare sua amica, fare pace. Vi ricordo che Anna è la moglie di suo padre Henry, quindi tipo sua matrigna. Ma neanche perché Mary, poverina, era stata dichiarata illegittima. Comunque Anna decide di fare pace e inizia ad avvicinarsi a Mary. Però quest'ultima la schifava totalmente. Non voleva averci assolutamente niente a che fare. E questo perché si vociferava che Catherine, la madre di Mary, fosse stata avvelenata. La sua morte, come dicevo, era proprio misteriosa. Nessuno sapeva come e perché fosse morta. Era davvero stranissimo. Quindi forse erano stati Henry e Anne ad avvelenarla. Per cui Mary assolutamente non si sentiva di avvicinarsi ad Anne. Che cazzo. Dopotempo però si scoprì che probabilmente Catherine era morta per un cancro al cuore. Una condizione veramente rara. E al tempo infatti i dottori non avevano la minima idea del perché fosse morta. Fatto sta che Mary pensava che sua madre fosse stata uccisa dal suo stesso padre e dalla sua nuova compagna. Quindi insomma immagino tutto il rancore che provava. Comunque più avanti Anna Bolena venne accusata di adulterio, incesto e alto tradimento. E per tutto questo venne decapitata da suo marito Henry. Ovviamente se dovessi raccontare ogni dettaglio staremmo qui ore. E dato che oggi vi sto raccontando la storia di Mary, andiamo avanti con lei. Da questo momento la possibilità che diventasse regina era davvero misera. Praticamente non c'era modo che salisse al trono e la sua reputazione non poteva essere peggiore di così. O forse sì. Da quando era adolescente, Mary soffriva di terribili dolori mestruali. Questa condizione le ha provocato un sacco di stress, sia fisico che mentale, durante tutta la sua vita. E non so bene per quale motivo, ma tutti, letteralmente tutti, sapevano questa cosa. Ogni persona del regno era ben informata riguardo i dolori mestruali di Mary. E non ha senso, ma ok. E il fatto che tutti lo sapessero portava ovviamente un sacco di giudizi e pettegolezzi nei suoi confronti. Aveva sempre crampi, dolori, cambiava umore da un momento all'altro. E questo la portò a soffrire di ansia e depressione. Quindi immaginate, non era una donna particolarmente sana, né fisicamente né mentalmente. Ecco, vi ho raccontato queste cose per avere un quadro più completo della situazione. Ma ora arriva il punto saliente. Il motivo per cui tutti la collegano a Bloody Mary. Contro ogni aspettativa, nel 1553, all'età di 37 anni, Mary diventò regina. Sei anni prima suo padre Henry morì. E Mary sapeva che doveva attivarsi al più presto. Doveva sposarsi e rimanere incinta. Sentiva la pressione di dare al popolo un nuovo re. Quindi incontrò Filippo II di Spagna, che era il re di Spagna, Portogallo, Napoli e Sicilia. Dopo due giorni dal loro incontro, i due decidono di sposarsi. Doveva non muovere il culo. Sposiamoci figlio, trono, soldi! Filippo era molto più grande di lei e si dice che in realtà a lui non piacesse affatto Mary. Ma in ogni caso, dopo un lungo processo di negoziazione, il matrimonio andò a buon fine. Anche questa volta si tratta di un contratto fatto più per soldi che per amore. Ma Mary in realtà voleva davvero l'amore. Voleva essere innamorata, amare e essere amata. E proprio per questo diventò praticamente dipendente dal suo nuovo marito. E dopo solo due mesi, il sogno più grande di Mary diventò realtà. Era incinta. O meglio, ai tempi ovviamente non esistevano i test di gravidanza e ai dottori non era permesso fare esami specifici ad una regina. Comunque Mary aveva tutti i sintomi della gravidanza. Rigonfiamento del seno, nausea e le sue dolorosissime mestruazioni si erano fermate. Però nonostante tutti questi sintomi, la popolazione era un po' dubbiosa riguardo la sua gravidanza. Per qualche motivo se la prendevano sempre tutti con lei. Quindi anche in questo caso nessuno le credeva. È tipo la Meg della situazione. Shut up Meg! E lei, poverina, non è che potesse mostrare delle prove inconfutabili in quel momento. Cioè non aveva alcun modo per difendersi da quelle critiche. Ma mese dopo mese, la pancia di Mary diventava sempre un po' più grande. E lei iniziò anche a dire alla gente che sentiva il bambino muoversi. Ma le critiche non si fermarono. La gente credeva fosse tutta una messa in scena. Pensavano addirittura che avrebbe rubato il bambino di un'altra donna e avrebbe detto che era il suo accuse decisamente pesanti. Questo perché Mary veniva spesso paragonata alla sua sorellastra Elizabeth che invece era vista come la sorella perfetta quella che davvero si meritava il trono. E poi vi ricordo che tutti sapevano le cose intime di Mary cioè il fatto delle mestruazioni perciò per qualche motivo pensavano di avere voce in capitolo riguardo a tutto anche sulla gravidanza. Cioè le persone credevano che Mary fosse il tipo di persona che mentirebbe su una gravidanza e che ruberebbe un bambino spacciandolo per suo. Questo per farvi capire che bella reputazione che aveva. Ma c'è un motivo per cui aveva questa reputazione e c'è anche un motivo se viene ricordata come Mary la sanguinaria. Poco dopo il matrimonio con Filippo II di Spagna Mary si macchiò di un crimine terribile. A quel tempo l'Inghilterra era divisa tra cattolici e protestanti. Ma Mary era determinata a far sì che il cattolicesimo prendesse dominio totale ed era disposta ad utilizzare ogni mezzo a sua disposizione. Poco prima di Natale nel 1554 firmò un atto che avrebbe portato all'esecuzione di centinaia di persone protestanti. Queste esecuzioni sono ricordate in Inghilterra come Marian Persecution letteralmente Persecuzioni Mariane. A partire dal febbraio 1555 si stima che almeno 240 uomini e 60 donne vennero accusati e condannati per essere protestanti. Come conseguenza tutte queste persone vennero brutalmente bruciate sul rogo. La maggior parte delle persone che vennero giustiziate così erano predicatori protestanti ma c'erano anche persone ignoranti che magari non conoscevano le preghiere cattoliche o non conoscevano i sacramenti. E se non conoscevi queste cose venivi ucciso, bruciato. Cioè, è tutto perché lo voleva Mary. Mary credeva che il suo compito, per volere di Dio, fosse di concepire un principe cattolico e metterlo al mondo in un regno interamente cattolico. Se non l'avesse fatto avrebbe subito l'ira funesta dell'Onnipotente. Era convinta che quelle brutali esecuzioni avrebbero spaventato le persone e le avrebbero forzate a voltare le spalle alla loro vecchia fede. Mary voleva dare un esempio di ciò che sarebbe accaduto se avessero deciso di non professare il cattolicesimo. Ed ecco perché il suo soprannome è proprio Bloody Mary. Ma torniamo un attimo alla sua gravidanza perché la storia non è affatto finita qui. Quando uno dei membri della famiglia reale stava per partorire succedeva un casino. Sei settimane prima dalla presunta data del parto la donna doveva mettersi in una sorta di reclusione e Mary fece proprio così. Il bambino sarebbe dovuto nascere circa il 9 maggio del 1555. Quindi, sei settimane prima, entrò in questa specie di reclusione. Insieme a lei c'erano delle donne da compagnia, dei servi e tutti gli strumenti necessari per un parto. In quella stanza tutti si aspettavano che Mary entrasse in travaglio da un momento all'altro e in quel periodo la tensione era alle stelle, sia tra loro che tra la popolazione. Un sacco di gente aspettava con ansia perché credeva che Mary stesse dicendo cazzate. Gli altri semplicemente aspettavano e non vedevano l'ora di dare il benvenuto a questo principe, figlio di Mary. Ma il 9 maggio arrivò e del bambino non c'era alcuna traccia. Quindi Mary dice Ah, forse ho confuso la data della nascita, forse non era il 9 maggio. Mi sono confusa, è possibile. E le persone in quella stanza sono d'accordo. Cioè, sì, era possibile che la data non fosse quella. Magari si era sbagliata e in realtà la data corretta era giugno, non a maggio. Quindi i media del tempo diffondono la notizia. Ancora nessun bambino, ci aspettiamo la nascita a giugno. E ovviamente questa notizia non fa altro che alimentare le voci e l'odio verso Mary. E un po' se lo meritava dato il massacro di qualche mese prima. Ma comunque in tutta Europa si diffusero notizie false, fake news. C'erano già. Queste notizie dicevano che Mary aveva partorito un bimbo maschio, ma che era morta durante il parto. Non so da dove sia uscita sta roba, ma ok. Però diciamo che era anche credibile perché Mary era ancora in isolamento in quella stanza. E nessuno poteva vederla. Nessuno poteva dire se fosse viva o morta. Ma intanto i giorni passavano e del bambino ancora non c'era traccia. E qui le voci si fanno ancora più terribili. Alcuni credevano che Mary avesse partorito un ammasso di carne senza vita. Ed è una condizione che esiste davvero, si chiama gravidanza molare. Praticamente il feto non riesce a svilupparsi perché compaiono delle cellule difettose che crescono e crescono. E alla fine può succedere che una donna partorisca questa mole di cellule e tessuti organici. È una condizione molto rara, tranquilli, ma può succedere. E se Mary avesse avuto una gravidanza del genere, di sicuro non l'avrebbero detto al popolo. Quindi ancora una volta iniziano a girare queste voci. Quanto gossip oggi. Mamma mia. Non si facevano i cazzi loro neanche nel 1500. Comunque la fine di maggio si stava avvicinando e il ventre di Mary sembrava essersi rimpicciolito. Quindi molto preoccupata chiama i suoi dottori e si fa visitare. Loro le dicono che è normale, che è il segno che il travaglio sta finalmente per cominciare. Ma dopo quell'episodio passarono delle settimane e ancora non stava succedendo niente. Nessun travaglio e nessun bambino. Mary quindi inizia a pensare che Dio la stesse punendo perché non aveva messo a tacere le voci sul suo conto. Strano da pensare ma dato che la conosciamo ormai ci aspettiamo tutto da Mary. Ma forse in quel momento ha un po' esagerato perché con questa idea in testa ha deciso di accelerare il processo delle esecuzioni. Ordinò di accelerare i tempi e continuare ad uccidere le persone sul rogo. Forse così avrebbero smesso di parlare. Inquietante. Poi vi ricordo che secondo lei Dio le aveva dato questo compito di far nascere un bambino in un regno interamente cattolico. Per cui se il bambino non nasceva credo che nella sua testa fosse perché in Inghilterra c'erano ancora persone protestanti. E lei doveva rimediare. Bruciandole. Ma torniamo a noi. Le persone in quel momento non ci stavano più capendo niente. Perché Mary non diceva assolutamente nulla sulla situazione. E non si capiva perché questo benedetto bambino non fosse ancora nato. Ma ad un certo punto vennero rivelati alcuni dettagli da una spia pagata per capire cosa stesse accadendo. In poche parole trappelò che per settimane la regina se ne stava a letto senza dire una parola. Come se fosse morta. Poi si alzava e si metteva per terra accovacciata con le ginocchia al petto. E questa è una posizione praticamente impossibile per una donna incinta che sta per partorire. Quindi ormai quasi tutti pensavano che la gravidanza fosse solo una bugia. E giugno e luglio passano e i dottori continuano a posticipare la data del parto. Ma sapevano che non avrebbe avuto nessun bambino. Ad agosto, quasi un anno dopo l'annuncio della gravidanza, Mary lascia finalmente quella stanza senza un bambino. Deve essere stato un momento molto triste, ma la gente non era dispiaciuta per lei. Ricordate il massacro di quasi 300 persone? Ecco. Comunque questa vicenda rimane ad oggi il caso più conosciuto e documentato di Pseudo Ciesi. Che sarebbe una falsa gravidanza. Si tratta di una condizione complessa e anche abbastanza misteriosa. Ma per farla breve, avviene quando una persona è talmente devota al desiderio di avere un figlio, che la mente inganna il corpo e gli fa credere di essere incinta. E il corpo si prepara come se stesse davvero aspettando un bambino. Sbalzi negli umori, ciclo interrotto, addirittura la pancia cresce proprio come nella gravidanza. È assurdo. E questa condizione esiste ancora, anche se oggi viene diagnosticata molto prima. Comunque è una cosa davvero assurda e fa capire quanto può essere potente la nostra mente. Ma tornando a Mary, ecco, ovviamente non l'ha prese benissimo. Non parlò mai più di quella sua gravidanza. Per tutta la sua vita non ne fece mai cenno. Due anni dopo, però, ha di nuovo avuto gli stessi sintomi e ha quindi pensato di essere di nuovo incinta. Ma stavolta non fregava più niente a nessuno. Persino suo marito credeva che non fosse realmente incinta. Ma Mary insisteva e continuava a dire a tutti che stavolta era per forza così. Aveva ogni singolo sintomo ed era sicuro al 100%. Ma anche questa volta non si trattava di una gravidanza. Era semplicemente entrata in menopausa. Quindi niente da fare. Non avrebbe mai avuto un bambino. L'anno seguente, infatti, Mary morì all'età di 42 anni a causa di un cancro alle ovaglie. A suo posto salì al trono la sua sorellastra, Elizabeth. E anche quest'ultima giustiziò centinaia di persone. Ma solo Mary verrà ricordata per la sua crudeltà. Insomma, ha avuto una vita di merda, non è riuscita a realizzare nessuno dei suoi sogni e viene anche ricordata ancora oggi come Bloody Mary. Perché lei sì e sua sorella no? Bloody Elizabeth. Da ora facciamo nascere un nuovo rituale. Perché cavolo anche lei è stata sanguinaria. Ma comunque solo Mary diventerà una leggenda. L'entità nello specchio, il cui nome può ancora essere sentito durante i rituali paranormali. Questi bambini e ragazzi cercano un brivido di terrore chiamando Bloody Mary allo specchio. Ma non hanno la minima idea di quale sia la vera storia della vera e sanguinaria Mary. Ed ecco che oggi ci troviamo a chiamare lo spirito inquieto di questa donna triste, insoddisfatta, che per vendetta infesterebbe ancora questo mondo. Molti credono che gli specchi fungano da portale tra questo mondo e quello dei morti. E altrettanti dicono di aver visto la figura di Bloody Mary tenere in braccio un neonato insanguinato. Conoscendo la storia, si spiega tutto. Comunque ragazzi, fatemi sapere se avete mai fatto questo rituale e se è successo qualcosa. Prima di salutarci voglio assolutamente sapere se credete che la vera Bloody Mary sia Mary Worth oppure Mary la sanguinaria, quindi scrivetemelo qui sotto. E come sempre a voi fedelissimi che rimanete fino alla fine dei video, vi spoilerò che la prossima settimana parleremo di un uomo molto famoso. Più precisamente si tratta di un ex fidanzato di Katy Perry che ha fatto delle cose davvero agghiaccianti. Spero di avervi incuriositi e spero quindi che rimarrete nei paraggi. Quindi se non volete perdervi nemmeno quella storia, ricordate di massacrare il pulsante iscriviti. Io come al solito spero che anche questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!